Formazione e memoria, ingredienti indispensabili per pensare ad un futuro migliore ma anche ragionato, facendo tesoro del passato e di ogni forma di esperienza. Al fine di coniugare tutto ciò, l'ospici GL Puglia ha inaugurato a Bari il centro FORME, allestito dal sindacato pensionati. Acronimo che non è casuale e che rimanda al gioco di parole inglese tradotto PERME con l'individuo al centro del progetto. Il luogo è multifunzionale, con sala multimediale ed aula per videoconferenze. Potranno ritrovarsi giovani, anziani, lavoratori, disoccupati e non solo. Ricco sarà inoltre il programma di incontri, formazione ed approfondimenti, con progetti di ricerca storica come quello sugli anni 70, periodo storico decisivo per diversi mutamenti nella società italiana. Questo è il luogo in cui si incrociano tante cose diverse. Lo facciamo anche lanciando un primo progetto, che è quello sugli anni 70. È importante per interpretare meglio i cambiamenti che sono avvenuti in questi ultimi anni. La nuova sede è un punto di formazione per i gruppi dirigenti del sindacato pensionati, e noi speriamo anche di altre categorie, perché è utile e importante la memoria, la storia, per capire anche il futuro. Per cui è un'iniziativa significativa che porterà importanti risultati.